Steph Flying con Cosimo Palomba, Silvain Griff, Giorgio D'Alessandro Junior, Sei Bella con Mario Minopoli, Steven con Salvatore Minopoli, Sirio Di No, BP dell'Annunziata, Santiago di Cielo, Marco De Vivo, chiaramente la scuderia 3-4, No Betting. Allineamento completato ed è anche più che buono. Via la macchina in velocità. Dal centro, Sirio Di No, alla grande, scende lungo i birilli per anticipare Sei Bella. Scende il targato No e il lancio se ne va in 13,5. Parcheggia Sei Bella Park, poi Silvain Griff. Completamento della piegata e anche dei 400 iniziali. che se ne vanno in 28,5. Stiracchia questo Sirio Di No. Dalla coda tenta la risalita Steven. L'andatura è micidiale, almeno per il momento. Infatti i 600 se ne vanno in 42,6 da 1,11. Ora può redimere un po' l'andatura agli ardori del suo allievo BP e Steven parcheggia in terza posizione. Mezzomiglio, 57,8. Area di lotteria, anche se sono quattro anni. L'abbiamo visto già lunedì con il rumbo. Si va a timbrare il chilometro in 1,12,4. 14,6 di frazione. E Sei Bella si affaccia. Cavalli sulla curva finale. Frazione ancora redditizia in 14,9. 1,27,3. Viene via anche Steven Del Runco e anche Santiago. Completamento della curva è passata Sei Bella. Allunga e si distende Sei Bella. E mi sa che di nome è di fatto ancora una volta questa Sei Bella. Vediamo se c'è l'andplane di scuderia. Sei Bella ha detto sì, sì, Emilio. Eh sì, conferma. Il notaio conferma. E' un plan di scuderia. 1,57,2. 1,13,3. In grande ordine questa scuderia. Ma non solo quella di Minopoli. Ma proprio questa di Sei Bella e Steven. 1,1,14 la quota. Quasi no betting. Non male le quote per il piazzato di Steven Del Runco. 1,51. Insomma, un lavoro pubblico, ma ben remunerato. Ma decisamente con il cronometro si è andato molto forte. Ripeto. 1,57,2 fa 1,13,3. I numeri di questa...